Ciao a tutti, è iniziata la prevedita per assistere alla prossima sfida delle fere Tertana Venezia in programma sabato 4 novembre alle ore 14 a Libero Librati dove la Ternana ha bisogno di tutto il nostro supporto per uscire da questo momento di crisi e c'è bisogno che il pubblico sia davvero il dodicesimo uomo in campo sabato per aiutare i nostri ragazzi a conquistare i tre punti perché sabato bisogna solo ed esclusivamente vincere per rialzarsi e per fare punti pesanti che servono per sistemare le cose per il resto in occasione della sfida con il Venezia sarà sempre attiva la stessa iniziativa andata in onda con il Brescia sulla stessa strada dove sostanzialmente verranno dove sostanzialmente verranno donati ai bambini delle scuole elementari e delle medie dei biglietti e ci sarà un biglietto a 6 euro per l'accompagnatore per cui ci sarà questa iniziativa nel frattempo è andata in onda un bellissimo gesto di solidarietà da parte del nostro tecnico Cristiano Lucarelli che ha mandato dei palloni in Africa ai bambini più bisognosi di noi per aiutarli a coltivare la passione per il calcio e c'è un problema per Antonio Raimondo che si è fermato nell'allenamento per il fortunio buscolare ora staremo a vedere quando recupererà per il momento non ci resta altro che andare allo stadio sabato 4 novembre e sostenere i nostri ragazzi nella delicata sfida contro il Venezia grazie